La pasta ci identifica nel mondo, in Italia siamo conosciuti per la pasta, ci trasmette emozioni, ci trasmette sensazioni, noi quando la prepariamo, quando la assaggiamo, quando la cuociamo, la pasta è Italia, è Italia nel mondo, portare sulla tavola degli italiani un prodotto che sia rispettoso della tradizione, che sia gustoso e velocissimo da preparare. L'innovazione sta nel fatto che è un piatto pronto che può essere conservato fuori dal frigorifero, senza conservanti, senza additivi aggiunti e che utilizza un metodo di conservazione antichissimo e che si usa in tutte le famiglie. Noi abbiamo utilizzato quel procedimento, quel metodo, quelle caratteristiche sulla conservazione e trasferito all'interno dei nostri prodotti, in modo da poter permettere al prodotto di durare nel tempo. Per la realizzazione di questi piatti noi utilizziamo un metodo artigianale nella preparazione, l'innovazione sta nella parte finale del processo produttivo, prendiamo i prodotti, li prepariamo e alla fine vengono sterilizzati. Significa portare la confezione ad altissime temperature, in modo da eliminare la carica batterica. Questo processo ci permette di far durare il prodotto nel tempo. L'eccellenza di questi prodotti è di sicuro il risotto. Il risotto è una sfida continua, riuscire a proporre un buon riso non è semplice, è pronto in due minuti.